Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, bentrovati o benvenuti su Opinione a riguardo. Dopo il video che ho fatto ieri relativo all'ultima iniziativa fatta dalla Bonelli riguardante Dampir, la quadrilogia, ho letto numero uno, mi è piaciuto, l'ho ritenuto anche interessante, soprattutto per i neofiti del personaggio, tra l'altro vi invito a dargli un'occhiata qualora non l'avete ancora fatto. Oggi vi porto una video-opinione, eccoci qua, una video-opinione su una delle letture che ho fatto, una delle tre letture che ho fatto ultimamente, che porterò sul canale, non so sinceramente come saranno spalmati, però comunque sia cercherò di portarveli nel più breve tempo possibile. Oggi vi parlerò di questo libro qua, Dungeon and Dragons, il buio profondo, il numero uno. Chiaramente penso che almeno una volta nella vita abbiate sentito parlare appunto di Dungeon and Dragons, grande, penso che a livello mondiale fanno delle fiere, soprattutto relativo al gioco da tavola, di questo panorama così incredibile. L'Armenia ha deciso di pubblicarlo in volumi. Questi non sono i volumi che sono usciti in edicola, ma è un altro genere di appunto uscita. Quelli erano 85 e sono terminati qualche mese fa, questi invece sono 65. Chiaramente acquistarli tutti ci vorrà del tempo, anche perché leggo tantissimo, quindi faccio delle pile alte, chiaramente vado ad eliminazione. E questo ce l'avevo da un po' di tempo, mi sono messo sotto e ho deciso di leggerlo. Prezzo di copertina 14 euro, una copertina chiaramente molto fantasy, infatti si tratta di un fantasy. Con il protagonista, il nome è Driz do Urden, nato infatti il buio profondo, la leggenda di Driz. Diciamo che su questo albo c'è veramente una trama gigantesca, la mole di personaggi è altrettanto gigantesca. Ci troviamo a mezzo Berazan, spero di averlo detto nel miglior modo possibile, appunto situato nel bulù profondo, visto e considerato che gli elfi, visto che i protagonisti sono gli elfi, più nello specifico gli elfi dro, in tempi non sospetti sono stati cacciati dalla superficie dai classici elfi che conosciamo tutti quanti noi, almeno gli amanti e gli appassionati, gli appassionati del fantasy, una popolazione gigantesca cacciata nel blu profondo che grazie alla regina ragno riescono a risorgere come popolazione, riescono a mettere su palazzi, una popolazione enorme, grandissima, e appunto questa regina ragno gli dà la possibilità soprattutto di usare la loro magia. Questo è importante. La regina ragno che ovviamente dà, ma riceve, vuole assolutamente la massima devozione. Come ho detto, il personaggio principale, fra l'altro è più di uno, però io mi voglio concentrare prevalentemente su di lui, è Dritz Do-Urden, Dritz il nome, Do-Urden il cognome. Do-Urden è il nome della casata, infatti Meso Berazan vengono suddivise in casate. Sinceramente non ricordo il quantitativo di esse, però sono in ordine crescendo, dalla più povera alla più ricca, è importante. Fra l'altro le prime otto, dove la casata d'Urden non è ancora entrata, visto che lei è la nona, sono le casate principali, sono le casate su cui si decide il futuro di Meso Berazan. È una storia abbastanza particolare, chiaramente non vorrò entrare troppo nei dettagli. Praticamente queste casate possono distruggersi fra loro ad un'unica occasione, ovvero farlo senza far rimanere in vita nessuno della casata superiore, perché eventualmente rimane soltanto una persona, lo può riferire alla Regina Ragno e la Regina Ragno farà sì che tutte quante le casate vadano appunto contro quella che ha fallito l'intento. Se non vive nessuno, quella casata viene praticamente eliminata e dal giorno dopo non se ne parla più. Quindi una questione veramente molto assurda. Se uccidi tutti non ti diciamo nulla, se lasci in vita uno sono cavoli tuoi. Praticamente ho scelto la parte più particolare. Dritz d'Urden è nato mentre la casata d'Urden eliminava la casata de Vir. La casata d'Urden era decima, la casata de Vir era nona. Chiaramente la casata d'Urden elimina apparentemente tutti i personaggi, i proprietari, i servi, i guerrieri della casata de Vir e ne prende il posto. Ma, e qui farò spoiler ragazzi, quindi tappatevi bene le orecchie, della casata de Vir ne rimane uno. Ne rimane uno che decide con una sorta di sotterfugio, con un'idea particolare di andare, di prendere il posto di un maestro senza volto, una sorta di spia, una sorta di 007 di tutte quante le case e riesce, poi chiaramente sarà anche scoperta questa sua idea, a far parte di una casata superiore, la casata Beril se non ricordo male. Una casata che poi, insomma, avrà e darà del filo da torcere alla casata d'Urden. Insomma, un fantasy molto particolare. Io lo consiglio. Lo consiglio a coloro che sono già preparati nel mondo fantasy, perché, come ho detto all'inizio, questa storia ha una mole gigantesca di personaggi, ha una trama altrettanto gigantesca, quindi per i neofiti, sinceramente, possono trovare delle complicanze. Invece per coloro che sanno già, più o meno, quelle che sono i termini del fantasy o quant'altro, nel mio modo di vedere, può risultare una lettura decisamente più scorrevole. All'inizio la lettura sembra pesante, sembra far capire poco, ma da metà albo in poi, quando tutti i nodi vengono al pettine, soprattutto Dritz D'Urden, ricordiamo che è il personaggio principale, capisce alcune dinamiche e per far fronte ad alcune dinamiche e fa la fa di conseguenza, la trama diventa veramente molto interessante. La lettura è anche decisamente più scorrevole. Quindi ve la consiglio. Chiaramente la mole è gigantesca. Si parla di... No, si parla. Sono 65 uscite. A livello di reperibilità è molto alta. Quindi qualsiasi persona che si vuola affacciare non credo che avrà problema reperire gli albi. si aggiano intorno ai 14, 15, massimo 17 ore ad alba. Poi chiaramente, insomma, pure uno al mese non penso che ci siano delle problematiche. Però ve lo consiglio. Un fantasy forse diverso dal solito. Ci sono figure, a parte i draw, a parte gli elfi, ci sono dei personaggi del mondo fantasy un attimino diversi dal solito, forse un po' più mostri che non personaggi fantasy. se ci sono i gnomi, ci sono i nani, ok. Però ci sono dei personaggi particolari. Una storia che mi interessa, una storia che vuole andare avanti, Giordi Natto numero 2, ovviamente già reperibile, ma arriverà la settimana prossima. Ho da leggere un altro grande classico che sto per terminare, che ovviamente non vi voglio dire perché sarà non la prossima, ma la prossima ancora video opinione a riguardo. ma successivamente inizierò il 2, il capitolo 2 della leggenda di Dritz, che se non ricordo male sono 5 capitoli, poi dal sesto inizia con un altro personaggio. Insomma, ragazzi, a faccia attiva questo mondo. Un mondo non per tutti, ma un mondo per esperti di lettura fantasy. Dungeon & Dragons è un marchio planetario, un marchio che, penso che come ho detto all'inizio, almeno una volta nella vita lo avete sentito. Quindi affacciatevi perché è molto interessante. All'interno poi il quantitativo di pagine è di 304, 304 pagine. Ci sono anche chiaramente delle mappe di Mezzo Berazan, come ho detto all'inizio. Un fantasy a tutto otto. Fatevi un'occhiata, ragazzi. Poi chiaramente fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi auguro una buona domenica e una buona continuazione. Ciao, ragazzi.